Si terrà a San Benedetto dal 14 al 19 giugno presso il Molo Sud il campionato europeo di pesca sportiva al quale parteciperà anche l'Italia. La pesca sportiva è uno dei primi sport a livello nazionale e appunto abbiamo la federazione italiana pesca sportiva di vita subacque che promuove questo sport. La mia società sportiva che è l'associazione pesca sportiva San Benedetto promuove appunto questo sport organizzando anche dei corsi di pesca gratuiti per i ragazzi e ogni anno ne organizziamo almeno un paio. L'organizzazione di questo campionato europeo è la prima volta che si svolgerà nelle Marche e appunto San Benedetto è stata scelta per l'organizzazione di questo campionato europeo e quindi dobbiamo essere onorati proprio perché questo campionato si svolgerà a San Benedetto che avrà una risonanza sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista turistico. Noi a livello nazionale ci hanno riconosciuto tanti meriti pertanto abbiamo dato molto a livello di organizzazione di manifestazioni e siamo all'altezza veramente di organizzare grossi manifestazioni anche perché abbiamo persone molto preparate per questo come Zefferino che è oltretutto anche cittadina nazionale azzurra pertanto è una persona che è ben immessa nell'ambito sportivo. Poi abbiamo il campo di gara che si presta a varie manifestazioni sia col mare cattivo sia col mare calmo quindi abbiamo varie possibilità di farlo quindi la federazione questo non tiene conto perché siamo in bottane insomma.